Musica Noi chiudiamo una stagione fantastica di eventi internazionali organizzati dalla Federazione Triatron in Puglia a Taranto con un evento prestigioso, la Coppa del Mondo di Paratriatron che assegnerà i punti validi per la qualifica alla Paralimpiade di Parigi 2024 Sono 80, è il massimo, gli atleti presenti qua a Taranto che si sfideranno per conquistare i punti in rappresentanza di 26 paesi del mondo un evento che varrà trasmesso in tutto il mondo, in tutte le nazioni che parteciperanno e devo dire che sono veramente contento, siamo riusciti a fare un lavoro di squadra con la regione Puglia, con il comune di Taranto e con la base militare, la Svam, la base dell'aeronautica che ci ha dato una location unica e credo che dobbiamo essere tutti molto contenti di portare la Puglia, Taranto e l'Italia a queste immagini nel mondo Taranto continua a ospitare eventi di natura internazionale di notevole prestigio come in questo caso la Coppa del Mondo della Paratliatron quindi Taranto capitale della Paratliatron 26 nazioni qui sul nostro territorio per questa competizione di livello internazionale questo è stato anche il frutto di un importante lavoro di squadra e soprattutto un lavoro preparatorio di questi anni aver ospitato i campionati nazionali di Aquatron ha dato la dimostrazione di avere un'organizzazione sul territorio impeccabile che ha visto la sinergia di tutte le istituzioni cominciando dall'aeronautica militare ma anche dalla stessa marina oltre che comune e regione ma anche di tutto il mondo sportivo e questo ha fatto sì che la federazione del triatron nazionale abbia scelto la sede di Taranto come sede di questa importantissima tappa e noi di questo non possiamo che essere orgogliosi e felici anche perché è un altro modo per poter veicolare la nostra città a livello mondiale per le cose positive e per le bellezze dei nostri territori e soprattutto per la nostra grande risorsa mare